Zip News Speciale Meteo Nuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stazionarie, massime tra 33 e 37 gradi. Al sud cielo sereno e poco nuvoloso, locale a nuvolamenti diurni in Appennino, temperature stazionarie, massime tra 31 e 34 gradi. Domenica al nord condizioni di cielo sereno e poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, locale a nuvolamenti sulle Alpi durante le ore diurne senza piogge, temperature in nieve calo, valori entro i 34 gradi. Al centro cielo sereno su tutto il territorio con annuvolamenti in Appennino associati ai locali temporali, temperature stabili, massime tra 35 e 37 gradi. Al sud cielo sereno su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche nuvo in Appennino nelle ore diurne, temperature stabili, massime non oltre i 33 gradi. È tutto grazie per l'ascolto e regia Rosario Perez. Le notizie nel modo più veloce.